Come ogni anno, il gruppo Scout a Cireale 1 ha organizzato un torneo di Roverino, un gioco molto praticato dagli Scout, il ricordo di Arturo Volcan, capo gruppo, grande amico e amante dello sport. Il torneo si è svolto domenica 18 maggio nel cortile del San Luigi e hanno preso parte, oltre i gruppi Scout zona Galatea, anche adulti ex-Scout, rendendo questo evento anche un'occasione di aggregazione e ritrovo. La moglie Elisa Presti, in virtù della grande passione di Arturo Volcan per il basket, ha fatto coincidere questo torneo con un progetto di raccolta fondi dal nome Un Canestro per l'Africa. Le quote di iscrizione al torneo, infatti, saranno devolute per finanziare la creazione e la preparazione atletica di una squadra di basket femminile africana.